Ciao a tutti ragazzi, sono Hikersoul e nel video di oggi parlerò del Birdnest, del Alpine Bear. È uno zaino da 23 litri che si è rivelato ideale durante il mio ultimo viaggio. Questo perché ho potuto inserire anche la mia attrezzatura fotografica senza problemi. A mio parere però risulta perfetto per l'utilizzo quotidiano. Infatti ho potuto trasportare il mio computer grazie alla tasca apposita che lo protegge dagli urti e grazie anche allo schienale che è abbastanza rigido e risulta comunque molto comodo. Sono presenti ovviamente tantissime tasche, alcune di queste sono nascoste, il che non è male, e quindi potrete portarvi in giro tutto quello che vi occorre. Infine vi posso dire che i materiali sono ottimi, si sente proprio al tatto che è ben costruito. Beh ragazzi, se volete acquistarlo o comunque volete maggiori informazioni sulle specifiche dello zaino, vi consiglio di dare un'occhiata al link che ho lasciato in descrizione.